ciao a tutti abbiamo pensato di realizzare questa piccola mini guida su richiesta di alcuni di voi per spiegarvi come si fa ad acquistare vedere sul proprio sofà uno dei film che vi stiamo proponendo prima cosa andiamo sul sito del cinema beltrade che sapete tutti cinema beltrade punto net dove trovate i film che stiamo pubblicando e mettendo a disposizione alcuni sono già disponibili altri lo saranno in questi giorni e nei prossimi giorni potete guardare quali sono i film e scegliere quello che preferite di più come fare concretamente abbiamo scelto di vedere ad esempio 1945 possiamo clicchiamo sul film si apre la scheda pagina del film con le informazioni solite del nostro sito ma qui in alto c'è questo bottone guardalo al beltrade sul sofà basta cliccare su questo bottone e separare la pagina per l'acquisto il noleggio del film noleggio noi proponiamo un biglietto sostenitore a 9 euro qui come vedete noleggia 9 euro ma diamo la possibilità anche di utilizzare dei biglietti ridotti secondo la possibilità di ciascuno e secondo quello che desiderate per utilizzare biglietti ridotti bisogna indicare al momento del pagamento i codici promozionali che sono questi scritti sotto la trama di ogni film per ogni film sono differenti non sono tutti uguali ad esempio vogliamo vedere 1945 e non pagare 9 euro biglietto intero ma scegliamo esempio di pagare 6 euro dobbiamo copiare questo codice sconto che è il primo indicato possiamo copiarlo anche nel computer oppure copiarcelo a mano per poi utilizzarlo e a questo punto noleggiamo il film ci verrà chiesto da vimeo anzitutto di registrarci per poter rientrare e vedere i nostri acquisti possiamo farlo con la nostra email con il nostro account facebook col nostro account google come siamo più comidi come preferiamo ad esempio io adesso utilizzo facebook per velocizzare ovviamente i miei dati erano già in memoria nel nel sito e quindi vengo automaticamente indirizzato nella pagina di pagamento altrimenti si aprirà una finestra e vi verrà chiesto di inserire il vostro account facebook a questo punto inseriamo i dati della nostra carta di credito oppure del nostro account paypal se lo abbiamo e desideriamo usarlo ovviamente non vi mostro i dati della mia carta altrimenti poi la utilizzate tutti per guardarvi voi film io non riesco inseriamo tutti i dati che richiede il sito di vimeo il paese ovviamente italia a questo punto vogliamo inserire il codice promozionale clicchiamo su appli promo code e qui andiamo a scrivere o incollare il codice del biglietto che abbiamo scelto in questo caso 6 euro clicchiamo sul bottone applica e vedete che al totale di 9 euro verrà applicato uno sconto di circa 3 euro e andremo a pagare circa 6 euro a questo punto clicchiamo sul bottone in basso rent a 6 euro attendiamo la risposta dal sito e il film è noleggiato e disponibile alla nostra visione da questo momento avremo 72 ore per vedere il film attenzione dovete ricordarvi come vi siete registrati se con la mail se con facebook oppure con google in modo da poter rientrare e vedere o rivedere il film nelle 72 ore a disposizione più volte anche che volete a questo punto buona visione buon beltrade sul sofà per qualsiasi problema difficoltà contattateci via mail o sui nostri canali e cercheremo il più possibile di aiutarvi e di supportarvi grazie a tutti e ci vediamo al beltrade sul sofà grazie a tutti